Iscrizione gratuita per i bambini diversamente abili e questa è l'iniziativa sociale dell'Istituto Paritario Kindergarten di Giuliano. È un'offerta che facciamo da tempo perché riconosciamo una giusta e doveroso offrire un'attenzione alle famiglie che già colpite da un disagio abbiano un riconoscimento da parte nostra e un'attenzione doverosa e quindi abbiamo deciso di offrire gratuitamente l'iscrizione non facendo pagare la retta e quindi un'agevolazione per quanto riguarda la frequenza durante tutto l'anno scolastico. È una cosa che sentiamo di fare perché riteniamo che uno degli obiettivi della nostra istituzione sia quella di porre attenzione a quelli che sono i bisogni sociali della nostra utenza. La scuola che ha formato da 42 anni a questa parte almeno 4 generazioni di alunni considerando nella formazione dei bambini l'importanza dell'arte, delle lingue e l'utilizzo di nuove tecnologie. La storia del nostro istituto è molto semplice. Siamo nati nel 1975, quindi abbiamo una storia più che quarantennale. Siamo nati per dare agli alunni del nostro territorio, oltre che l'istruzione, anche l'educazione, consapevoli di offrire al territorio, agli alunni e alle famiglie della nostra città, un apporto in termini educativi. Credo che nel tempo siamo riusciti in tutto ciò, anche perché abbiamo avuto riscontro attraverso attraverso il riconoscimento da parte delle famiglie e quindi siamo pienamente soddisfatti di quello che abbiamo costruito, di quello che abbiamo riscontrato e di quello che abbiamo ottenuto. Grazie.